Buongiorno a tutti quanti quelli che sono qua e buongiorno anche a chi ci sta ascoltando la settimana, due settimane fa abbiamo iniziato parlando della, non so se vi ricordate della puntata all in, della puntata nel gioco del poker dove si mette tutto quello che rimarrà a disposizione e abbiamo parlato della puntata che Gesù ci chiede di fare la puntata all in sul padre Gesù ci dice che quello nel primo comandamento, quello di dare tutto quanto a Dio, mettere tutto sul piatto, tutto per Dio, abbiamo visto la volta precedente come Dio ci chieda di puntare tutto il cuore, di puntare tutto il cuore nel senso ebraico e interno, vi ricordate che non era soltanto il cuore ma era anche l'intelligenza, il ragionamento, i pensieri, la logica, tutto quanto a Dio, di metterla a disposizione di Dio attraverso le azioni, azioni di molti oggi vediamo la seconda puntata all in che ci chiede di fare Gesù, il versetto di Luca 10,27 dice ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la forza tua e con tutta la mente tua. Oggi vediamo anima. La seconda cosa che Gesù ci mi chiede di mettere sul piatto è la mia anima. Ora, vi siete mai chiesti che cosa intende Gesù per anima? Perché l'affermazione, sapete, è un po' strana come affermazione. Io devo mettere a disposizione di Dio qualcosa che è una parte immortale, l'anima, e di cui lui è già proprietario. Infatti Gesù se noi leggiamo in Ezechiele, Ezechiele 18,4, qui è Dio che parla e dice ecco tutte le anime sono mie. A lui già ha le anime, tutte le anime sono mie, tanto l'anima del padre come l'anima del figlio sono mie. Allora, come posso io dare a Dio qualcosa che è già suo? È già suo. Ora, la parola anima, noi abbiamo letto il Vangelo di Luca prima, e il Vangelo di Luca è scritto in greco, e in greco anima è scritto psiche. Ma ovviamente Gesù non parlava in greco, non parlava in greco, ma Gesù parlava in aramaico. Non stupitevi che Gesù non parlava in ebraico, perché l'ebraico era la lingua che veniva usata esclusivamente dai sacerdoti. Il popolo parlava in aramaico, per cui Gesù parlava sicuramente dell'ebraico, perché leggeva la Bibbia in ebraico, ma parlava la parola, la lingua che tutti quanti, le persone parlavano in quel tempo in Galilea, per cui parlava in aramaico. Anche stavolta dobbiamo vedere, scusate se è un pochino tecnico, la differenza tra la cultura greca, in cui è scritto il Vangelo di Luca, la cultura greca di Luca usa la parola psiche. Nelle nostre Bibbie psiche è tradotta sia come anima, sia come vita. Nella cultura greca le persone erano composte da due diverse entità. una era la somma, che era il corpo, e l'altra era la psiche, che era l'anima. somma era la parte fisica, e la psiche era la parte metafisica, che era oltre il fisico. Per i greci somma era la parte fisica, che era quella meno nobile, quella da disprezzare, perché era sottoposto alla fame, alla sedia, al vento, al freddo, al caldo, all'invecchiamento, alla morte, per cui questa era una parte che contava poco, era una parte da dispensare. Psiche invece era la parte metafisica, la parte che non andava oltre il fisico, e questa era la parte realmente nobile. Questa era quella che valeva tutto quanto, perché era la parte già per i greci, la parte immortale. ora, questa è la cultura greca. Le cose si complicano con la cultura latina, quella da cui noi diveniamo. Perché? Perché per i latini gli esseri umani erano composti da tre entità. Una era corpus, come dice, corpo, che era la parte fisica. Una era vita, in latino è uguale all'italiano, l'italiano è uguale al latino, che era da parte, tutto quello che coinvolgeva gli organi, il funzionamento del fisico. e per molti qua ci fermavano, perché già all'epoca della tardo latina le persone non credevano nell'esistenza degli lei, molte persone non credevano che ci fosse una vita oltre la morte. E poi, per molti, per alcuni, c'era la parte metafisica, anima, soprattutto per chi credeva. Ora, mentre per i greci la parte importante era psichè, l'anima, per i latini, i romani, la parte importante era corpus, il corpo. Per cui la cura del proprio corpo, il godere, per cui grandi mangiate, grandi eccessi dal punto di vista sessuale, e tutto quello che riguardava. Le altre due parti contavano poche. La vita andava conservata in funzione del podere con il corpo, con il corpus, ma l'anima ci si poteva fare a meno, intanto non era importante. Allora, lunga premessa per capire quello che sta dicendo Gesù. Ora, visto che Gesù non parla in aramanico, ma parla in aramanico, che parola ha usato? La parola in aramanico, che ha usato quasi sicuramente Gesù, è noshah, che è una parola che è identica all'ebraico, che è questa qua, che si pronuncia nefesh. Ora, qual è la caratteristica? Perché è importante questo? Perché in ebraico la parola anima, psichè, si traduce con nefesh, e la parola corpo, soma, per cui questa è nefesh, e la parola, questa è nefesh, e la parola corpo, soma, si traduce con nefesh, nefesh. Per gli ebrei corpo e anima erano la stessa cosa, per cui questa era la fruttura greca. era tutto quanto, erano scendibili, il corpo, il corpo senza, il corpo senza la vita e l'anima non era possibile che esistessero, e l'anima da sola, senza il corpo e la vita, non era possibile che esistessero, per cui era un tuttuno indivisibile, corpo, anima e vita erano la stessa cosa, per cui non era possibile staccarli. A questo punto tu però potresti dire, beh un attimo, fammi capire, tu mi stai parlando di due cose differenti, perché il corpo è mortale, l'anima è immortale. Come possono essere insieme due cose che hanno una natura differente, una è destinata a cadere, e una invece è destinata a sopravvivere per sempre. Allora, spero di non scatalizzarmi, ma nell'Antico per il Testamento non si parla mai di mortalità dell'anima, non si parla mai di mortalità dell'anima. Infatti, se leggiamo l'intero versetto di Ezechiele, ok? L'intero versetto di Ezechiele 18, versetto 4, dice, ecco, tutte le anime sono mie, tanto l'anima del padre come l'anima del figlio sono mie. L'anima, Nefesh, che pecca morirà. Quindi lo dice molto chiaramente. L'anima che pecca morirà. Gesù stesso, e non c'è la slide perché l'ha aggiunto questo versetto stamattina, dice la stessa cosa. In Matteo 10, al versetto 28, Gesù dice, e non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Vedete che Gesù stesso dice che anima e corpo sono uniti e possono morire nella genna. Ok? Ma nell'Antico Testamento si parla di resurrezioni. Nell'Antico Testamento si parla di resurrezioni. Daniele parla di resurrezioni del corpo. Daniele 12, versetto 2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per l'eterna infamia. Daniele parla di questo. Nel Salmo 49, Daniele parla della resurrezione dell'anima. Dice così nel Salmo 49, versetto 15. Poiché, ma Dio riscarterà l'anima mia, Nefesh, dal potere del soggiorno dei morti perché mi prenderà con sé. Allora, poiché anima e corpo sono indivisibili. Per un ebreo il concetto era questo. Per gli ebrei, quando moriva il corpo, moriva anche l'anima. Però un attimo, dobbiamo entrare nel concetto ebraico di morte. C'è il telecomando della televisione dell'anima, aspetta. Il concetto degli ebrei è differente da quello nostro. Per noi, quando muore il corpo c'è la morte, soprattutto nella nostra cultura materialistica. Una volta che è morto il corpo è figo tutto quanto. Per gli ebrei la morte non era la fine di tutto, soprattutto per Dio non è la fine di tutto. Il corpo tornava a essere polvere, così come era in Genesi 2, quando Dio aveva fatto il corpo dalla polvere. E l'anima finiva in quello che dice David, dice il soggiorno dei morti. Era un posto fisico, che era lo Shoel, in greco è Ares, dove le anime stavano in attesa della risoluzione. Vi faccio un esempio parale. Allora, è come spingere questo video. Allora, io qui ho messo le mie note, no? Se io spingere il video, ok, le mie note non ci sono più. Le mie note ci sono, ci sono. Non è che debbo comprare un nuovo video, una nuova televisione, un nuovo pc per rifare le mie note. Basta semplicemente che do un contatto di nuovo e, come per magia, le mie note con calma ricompaiono. Basta semplicemente riattivare i circuiti che avevamo spento. Per dire la stessa cosa, corpo e anima sono, quando muoiono, sono spente, sono spente da remoto, ma possono essere riattivate. Ritorniamo però al quesito da risolvere. Cosa intendeva dire Gesù quando parlava di anima? Quando affirma che devo mettere sul piatto la mia anima. Da quello che ho visto non posso staccare anima, l'anima, dal corpo e dalla vita. Ma devo dargli l'intero pacchetto. Gesù ci sta dicendo, quando parla di anima, che tu devi dare l'intero pacchetto di anima, corpo e vita a Dio. Della prossima parte. Questa è una parabola che possiamo fare nel mezzetto. Ama il Signore più e più tuo, con tutto il tuo corpo, con tutta la tua vita e con tutta l'anima tua, tutto quanto. Gesù ci sta dicendo non soltanto di dare una parte, una parte. Per dare tutto quanto il pacchetto. Ma come faccio? La domanda è come faccio a mettere sul piatto di Dio anima, corpo e vita? Della prossima parte. Pietro ci dà qualche suggerimento. In prima Pietro, nel capitolo 2, versetto 11, ho usato la versione tratta dalla Bibbia della Giorgia. che dice così. Fratelli miei, qui siete soltanto forestieri. Dato che la vostra vera casa è in cielo, vi prego di non aver nulla a che fare con i desideri malvaggi di questo mondo, che sono sempre in lotta contro la vostra anima, psiche. L'obiettivo principale è quello di fare guerra alla tua anima, di fare guerra alla tua anima a far sì che il tuo corpo e la tua vita obbediscano a un tutto altro tipo di Dio, non a questo Dio, non al Dio che conosciamo, non al Dio degli ebrei, non al Dio dei cristiani, ma al Dio del materialismo. Il mondo vuole essere l'autorità ultima da cui tu tracca la base della tua vita, che fornisce le fondamenta totali del tuo essere uomo. E questa è una cosa che dobbiamo affrontare tutti i giorni, perché tutto il mondo che ci circonda, tutto quello che viviamo, tutto quello che è dove siamo, ha come fine ultimo il fatto di essere dipendenti dal mondo. Allora, che cos'è che ci suggerisce Pietro allora? Cosa ci suggerisce? Di non avere nulla a che fare con il mondo? Di dire ok, lasciate tutto quanto, andate in un bel monastero, in Grecia ci sono le famose piteura, dei monasteri fatti su un pippo altissimo dove i monaci stanno da sopra e non vedono mai nessuno, di isolarsi così? Assolutamente no, assolutamente no. Pietro ci chiede di non avere nulla a che fare con i desideri malvagi del mondo, non con il mondo, ma con i desideri malvagi del mondo. E Pietro ci riconosce con una lista, questa è la lista, versetto 12. Comportare di bene tra i non credenti, il desiderio di essere buoni soltanto con quelli che sono credenti, soltanto con i fratelli e le sorelle di Cristo, tutti gli altri giù mazzati, tanto quelli che sono credenti. Versetto 13. Per amore del Signore siate sottomessi ad ogni unità umana e onorate di chi come era. Il desiderio di farsi le leggi prove, passo con rosso, viaggio senza biglietto, lavoro al nero e non parlo le tassi. Versetto 18. Il desiderio di restare a casa e farti imbrare il cartellino da qualcun altro. Il desiderio di stare in ufficio davanti al computer dove dovresti lavorare e invece navigare su Amazon per fare le compie. Versetto 22. Egli, Gesù, non peccò mai né disse ma che la minima cucina. Il desiderio di crearsi una realtà parallela che non c'entra niente con quella reale. Versetto 23. Quando Gesù fu insultato non rispose mai per le rime e mentre soffriva non minacciava. Il desiderio di ferire l'altro insultandolo. Il desiderio di farla pagare chi ci ha fatto del male. Di fare le proprie vendette e non aspettare quelle di Dio. Sono questi quello che Pietro chiama i desideri malbaggi del mondo. Sono queste le cose con cui dobbiamo rottare. Con le quali non dobbiamo avere nulla a che fare, dice Pietro. Ora, come? Come faccio a stare lontano? Pietro ci dice che in questo mondo siamo forestieri, forestieri, stranieri, immigrati. Non facciamo parte di questo mondo. Come si comporta uno straniero, un immigrato, un forestiero in questo paese, per esempio, in Italia? La prima cosa che succede a un forestiero che vuole mantenere la propria nazionalità è questa. Conserva un animo. Io vi ricordo, la prima cosa che accade a uno straniero, quando viene in Italia, per esempio, è che piano piano perde la sua lingua madre. Perché comincia a distaccarsi dal vocabolario che c'è in patria, per cui ci sono nuove parole che sorgono in patria sua e che lui non conosce più, per cui 30 anni dopo parla con una persona, se torna nella propria patria, parla con dei vocaboli che non si usano più da 30 anni, scatenando l'utilità delle persone, per cui la prima cosa che succede è che smette di pensare nella sua lingua, smette di conoscere le parole nuove e perde anche l'accento. Si sente che non è più l'accento giusto, quello suo. Quando mia moglie Gianni si è trasferita circa 30 anni fa qua in Italia, non esisteva la possibilità della tv inglese, non esisteva la possibilità di ascoltare le radio, non esisteva nessuna possibilità di accedere ad altre fonti che fossero in inglese. Perché? Perché non c'era il web, non c'era non c'era il internet, non c'erano i siti, non c'erano le televisioni satellitari, per cui non si poteva parlare in inglese. Però per non perdere la lingua, per non perdere la lingua, noi avevamo operato una piccola radio a donne volte. È un vecchissimo sistema di trasmissione che chiaramente veniva fatto all'epoca, forse veniva fatto ancora, non lo so, con delle onde cortissime che si diffondono tramite rimbalzare nell'aria, tramite rimbalzo nella stratosfera e si diffonde in tutto quanto il mondo. Allora, che cosa succedeva? Che cosa succedeva all'epoca? Che mia moglie per poter sentire la sua lingua si concentrava, si collegava a un programma che si chiama BBC World Service. Non so, esiste ancora BBC World Service? Sì, ancora esiste. Che diffonde le notizie, i programmi in tutto quanto il mondo. Quindi, in pratica, riusciva a conservare la propria lingua ascoltando BBC World Service. Ma come possiamo, noi come stranieri della Terra, conservare la nostra lingua e il nostro linguaggio? Allo stesso modo dobbiamo, come figli di Pino, continuare ad ascoltare la nostra lingua madre. La nostra lingua madre è la lingua che abbiamo avuto quando, quando siamo nati di nuovo. Questo significa semplicemente leggere la Bibbia, leggere la Bibbia ogni giorno. La seconda cosa che fa uno straniero è che conserva le tradizioni. L'altra cosa che in l'Italia, già in cui si chiama diventere, erano le proprie tradizioni nominiane, le tradizioni che erano tipiche della tua patria. Per esempio, tra poco sarà il latte di grasso. Il latte di grasso in Inghilterra c'è la tradizione di mangiare i pancakes, che sono delle frittelle fatte con l'uovo, il latte e farina. Ci sono delle pancakes che si mette sopra. Il salato, il dolce, che sono buonissime, noi tra poco le mangeremo. Peccato che ci abbiano in lockdown, se no vi diamo a casa. Allora, noi abbiamo mantenuto quella tradizione che è una tradizione britannica, perché? Perché fa sentire Janet come una parte ancora della sua madre e patria. È importante mantenere le tradizioni perché ci ricordano che la nostra vera patria non è quella dove siamo, non è quella dove stiamo in quel momento. Si fanno anche le cose da noi, si fanno in una maniera differente da come le facciamo in quel posto. Allo stesso modo, noi come figli e figlie di Dio, dobbiamo mantenere le tradizioni che Dio ci ha indicato. Una delle tradizioni che ci ha indicato significa, è quello di incontrarci. Mantenere le tradizioni che Dio ci ha indicato significa semplicemente venire in chiesa la domenica fisicamente. Ti faccio un applauso a quelli che sono qua oggi. Con tutto perché oggi è una giornalaccia per venire perché non vedete le strade e viaggiare. Però lo streaming che stiamo facendo non è chiesa, cioè è un aiuto alla chiesa, ma è quello che si chiama in gergo succedario. Avete mai comprato il caviale? Io no, io no. Al supermercato, se volete, il caviale ci stanno le scatolette che c'è scritto, uova di lupo, succedario del caviale. Significa che il caviale sono delle uova di Sittorio e sono costosissime. C'è un altro pesce molto più economico che si chiama lupo, che fa delle uova che sono più o meno come quelle del caviale, ma non sono caviali. costano una frazione, un decimo del caviale e infatti vengono vendute come succedario, ovvero qualche cosa che assomiglia al caviale, ma non è assolutamente caviale, costa di meno, ma non c'è paragone di il caviale. Io non lo so perché il caviale non lo ha mangiato, per cui non so se sia meglio o preggio. Però è un succedario. Lo streaming da casa è un aiuto quando non si può avvenire, tipo oggi che c'erano le strade ghiacciate, perché sì, le persone hanno deciso di sangiamento, di rimanere a casa per evitare la placca di ghiaccio, è un aiuto. Ma se è su base settimanale, se tu che mi stai ascoltando sei di soltanto una chiesa streaming, tu non fai parte di una chiesa, tu stai vedendo uno succedere, come potrebbe essere qualsiasi atto che comisci. Non illudere, te stesso, non illudere te stessa, che tu fai parte di una chiesa perché vedi uno streaming, non ne fai parte, stai vedendo uno show. Dio ti chiede di avere le stesse abitudini che hanno sempre avuti i cristiani, i credenti, di incontrarsi fisicamente e di avere comunione fratello e quello che fa. La terza cosa che è possibile fare è chiamare a casa. Quando Gennaro si è trasferita, ripeto circa 30 anni fa, non esisteva Whatsapp, Whatsapp non c'era e l'unica maniera di essere in contratto era telefonare. Ora il problema era, telefonare costava una cosa enorme, delle bollette mostruose all'epoca pagavano 120-150 mila lire dell'epoca, di più 200-250-300 mila lire dell'epoca per delle telefonate di 10 minuti, ma sì 10 minuti, 5 minuti per dire già mamma, difatti era più sua mamma e i suoi papà che telefonavano dall'Inghilterra dove già c'erano più compagnie telefoniche, perché da noi costava tantissimo, costavano un po' le qualità, però Gennaro facevano lo stesso, Gennaro le telefonavano lo stesso perché questo voleva poter dire ascoltare la voce dei miei genitori, la voce dei suoi genitori raccontargli quello che era accaduto qua in Italia, chiedere suggerimenti, magari chiedere consigli su qualche cosa che doveva fare, perché? Perché era fondamentale per lei rimanere, lo è tuttora fondamentale rimanere in contatto con i suoi genitori. Lo sapete che Dio ha sempre avuto un WhatsApp, da sempre, Dio ha inventato un WhatsApp dall'inizio dei tempi, una linea completamente gratuita dove non si spende niente, sul quale puoi chiamare a ogni ora del giorno e della notte, tanto perché non fa differenza il giorno e notte e quella, quella si chiama preghiera, si chiama preghiera quella chiamata fatta ad un padre che è sempre disponibile, che è desideroso di sapere che cosa stai facendo, quello che potrebbe essere in contatto. Era una propria vita dalla domanda di cosa potesse dire Gesù quando ci dice di dare tutta l'anima, quando ci dice dai tutta l'anima tua a Dio. L'anima tua non è soltanto, insomma, corpo, non è soltanto vita, non è soltanto psiche, anima. L'anima è tutto quanto, tutto quanto. Gesù ti sta chiedendo di dare tutto quanto, di dare il tuo corpo, di dare la tua vita, di dare la tua anima, tutto quanto a Dio. che non è per il comandamento, la seconda parte della mia puntata all in è amare Dio con tutto me stesso, vita, corpo, anima, perché sono tutto uno, sono inscindibili l'uno dall'altro. Capire che la mia patria non è questa, ma che la mia cittadinanza, come dice Paolo, è nei cieli, e comportarmi come uno straniero, vivendo nel posto dove sono, ma ottenendo le leggi del Padre. Fermiamoci a pregare. Signore, grazie di essere un Dio che sei costantemente in contatto, che a qualsiasi momento dell'ora ed ora del giorno e della notte io posso chiamarti e tu sei pronto ad ascoltarmi. Signore, oggi io ti voglio pregare queste cose. Io voglio essere uno straniero in questa terra, voglio vivere su questa terra ma seguendo le due leggi e voglio non seguire i desideri malvagi del mondo. Per questo, Signore, io voglio continuare ad adorarti, conservando la lingua tua, ovvero leggendo la Bibbia. Signore, vi prometto che leggerò sul base quotidiana la Bibbia, ogni giorno, per abituarmi, per continuare a conoscere le parole della tua salvezza. Signore, voglio continuare a conservare la tradizione della mia famiglia. Voglio frequentare una chiesa fisicamente, stando insieme a fratelli e sorelle in Cristo, affinché possano avere unione fraterna con loro. E infine, Dio Signore, ti prometto che chiamerò casa, pregherò, pregherò costantemente, ti terrò informato di tutto quello che mi accade e di tutto quello di cui ho bisogno, perché tu so che sei un Padre che ha un controllo e in ascolto. Tutte queste cose le prego del tuo Santo Monsignor, Gesù. Amen.